3 consigli per sopravvivere e andare veloci in caso di pista bagnata Primo, immaginate le tariettore da asciutto e fate l'esatto contrario State sempre larghi ed evitate assolutamente la striscia gommata Secondo, frenate delicatamente e fatelo solo con lo sterzo dritto Altrimenti finirete così Terzo, leggeri sull'acceleratore Ok che i rental sono poco potenti ma con le slick rischiate comunque di sbinnare in accelerazione Quindi niente pestoni Se volete altri mini tutorial seguitemi